e come il divieto degli spot pubblicitari per i bambini si va sempre a trovare la questione dei soldi quando il RAI è stato fatto lo schifo e lo sperpero più totale di soldi pubblici quando invece sono azioni importanti i soldi pubblici contano e dobbiamo capire come trovare la quadra è un servizio pubblico che deve fare gli interessi dei cittadini e soprattutto delle persone più deboli affetti dall'udopatia questo chiediamo, questo pretendiamo e si deve trovare la quadra a fronte di tutti gli sprechi che in 30 anni ci sono stati anche per colpa vostra Buonaccorso Solo per rafforzare il senso invece dell'emendamento che abbiamo presentato come relatori e che è stato citato dal collega Vacca e per rispondere anche al Presidente Fico proprio perché consideriamo fondamentale e importantissimo ridefinire il perimetro del servizio pubblico e quindi gli obblighi di servizio pubblico nello stesso emendamento presentato è stata prevista l'avvio di una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo proprio per discutere, rimettere in discussione e fare un ragionamento più complessivo sugli obblighi del servizio pubblico Grazie La ringrazio non vi sono altri interventi è l'1.37 Vacca lo poniamo in votazione per il contrario di Commissione e Governo favorevole relatoria di minoranza votazione è aperta Nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Tecnico Industriale Baldini di Ravenna che assistono ai nostri lavori dalle tribune Aspetto che dopo l'applauso riprendiate la votazione Chimenti Piepoli Patriarca Ci siamo? Tripiedi non riesce Ora è riuscito Dichiaro chiusa la votazione La Camera Oh Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge Siamo ora a pagina 23 è l'1.3